Un'altra annata positiva per Standard Chartered, nonostante il peso delle multe e dei nuovi requisiti di capitale e liquidità. La banca di investimento britannica ha riportato nel 2012 buone performance sui mercati asiatici, in cui è specializzata, con una crescita dei profitti a quasi 5,3 miliardi di euro. Buone notizie per i vertici, quali però hanno subito un taglio dei propri bonus a causa della sanzione combinata dagli Stati Uniti per aver violato l'embargo sui capitali iraniani.